Ciao, come stai? Io bene, tu meglio, perché io abbastanza bene Sono qui pieno di te, guarda Questo disco è tuo, eh? Sì Te lo do, nel senso che sennò come fai a regalarmi? Ma per me lo posso mettere così? Sì, tienlo così Così vedo la copertina Ha bene se non lo comprano per me, lo comprano per la copertina Guardi come è bello, va Se ti compro solo la copertina siamo rovinati però, eh? Anche l'interno è ottimo, va benissimo Sì, ma l'importante è che si venda anche la copertina Senti, dentro il servizio mi sono stati con moglie, figli Di questi figlioni qui, qual è quello che ti seguo più da vicino? Ma tutti e due Sì, non c'è Sì, sì, tutti e due Se c'è il secondo che gli piace di più la musica, all'altro gli piace giocare a pallone E adesso vai Vado? Sì, vai, vai Sei venuto qui ma noi ti mandiamo Penso che mi siamo scortesi E adesso vai Vado? Sì, vai, però ti saluto lo stesso Ciao Mi raccomando, compro di Vado Vado, compro la, io compro il disco, un inizio biondo Eh, questo è anche importante Però innanzitutto la musica Ma vai con la musica Ecco 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 Vai dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai cercando quello che hai. Poi con l'effetto parlerai, quante storie inventerai, senza tempo tornerai a dove nessuno ci sta. A Superclassifica Show c'è Nino D'Angelo. 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 A Superclassifica Show c'è Nino D'Angelo.